Ciao amici, oggi parliamo di unghie sane, belle e forti. Le mani, soprattutto per noi donne, sono un po' come un biglietto da visita. Le unghie sono una delle parti più difficili da curare e mantenere perfette. Richiedono attenzioni costanti e continue, quindi meglio se naturali. Ecco come avere sempre unghie forti e curate con i rimedi naturali. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. E ora i migliori 7 rimedi naturali per trattare le unghie a casa. 1. Olio e limone. In una ciotola mettete due cucchiai di olio di oliva e uno di succo di limone. Una volta mescolati, immergete le unghie per almeno 10 minuti. Ripetete questo trattamento una volta ogni due giorni per avere ottimi risultati. 2. Equiseto. L'impacco di polvere di equiseto, che si trova in erboristeria, nutre e rinforza le unghie. Unite un grammo di polvere e un cucchiaino di miele. Applicate per 10 minuti e sciacquate bene. 3. Avocado. Schiacciate la polpa, aggiungete un tuorlo d'uovo e succo di limone. Sfalmate sulle unghie, lasciate in posa per 20 minuti e risciacquate con acqua tiepida. 4. Aglio. È un antibiotico naturale, alleato delle unghie. Le nutre e le protegge. Basta prendere uno spicchio di aglio e strofinarlo sulle unghie una volta al giorno. Ma così ho una bruschetta al posto delle mani. Vero. Per evitare l'odore potete tritarlo e mescolarlo a qualche goccia di limone. Mettetelo sulle unghie e toglietelo dopo qualche minuto con acqua tiepida. Nessun odore. 5. Olio di cocco. Un tocco esotico non solo per la bellezza delle unghie ma anche per la salute delle cuticole. Massaggiate le unghie alla sera con due gocce di olio di cocco per renderle più forti e più lucide. 6. Olio di oliva. La vitamina E nutre le unghie ma il segreto per farsi un trattamento da spa è scaldare leggermente l'olio e applicarlo caldo, poi massaggiare per 5 minuti. 7. Succo di limone. Il suo noto effetto schiarente è utile anche per le unghie gialle. Inoltre la vitamina C le nutre e le rinforza. Passate sulle unghie una fetta di limone e subito dopo una crema idratante. Visto quanti rimedi naturali per le unghie, semplici, economici che abbiamo in casa? Eh sì, io ho già le mani più belle. Trovate tante altre ricette naturali per la bellezza e la salute naturale sul mio canale. E per vederle tutte basta iscriversi con un clic e attivare la campanella delle notifiche. Mangia sano e vivi meglio! Grazie a tutti!